Il 2016 è stato un anno molto positivo, l'anno nuovo potrà concretizzare ancora di più le potenzialità di un porto, quello di Taranto, che deve uscire dal monopolio e aprirsi ai nuovi mercati con ricadute positive per il territorio. Lo Ionian Shipping Consortium, consorzio di imprese marittime locali, nato su iniziativa di alcune agenzie marittime di brocheraggio attive nello scalo, ha tracciato nel corso di una conferenza stampa il bilancio dell'attività svolta e illustrato i programmi del futuro immediato. A evidenziare i punti cardine dello stesso programma è il presidente del consorzio, Rinaldo Melucci. Si sono fatti passi avanti importanti negli ultimi 18 mesi, se l'anno scorso era la stagione dell'incoscienza per gli operatori tarantini, che si sono lanciati probabilmente senza neanche avere completa cognizione di tutte le dinamiche, le problematiche interne al porto e alla grande industria, e tentando di in qualche maniera ridisegnare un ruolo più dignitoso per la categoria all'interno del porto. Quello che si apre è l'anno di re del coraggio, perché siamo stati capaci di fare cose importanti per noi e per la città, per i giovani che sono stati formati, per le iniziative che sono state in qualche maniera implementate e che possono diventare un momento di tradizione anche per quello che è lo sviluppo della cultura marittima di questa città. È l'anno del coraggio perché credo che abbiamo dimostrato a tutti, anche a chi non ci credeva, che si possono fare cose importanti in questo territorio, stando insieme, rinunciando probabilmente a un po' di profitto personale, ma puntando a progetti più grandi. È l'anno del coraggio perché sono sicuro che ormai siamo avviati come territorio, come porto, a una stagione di grande rilancio e di grande speranza. Presente alla conferenza stampa anche Valentino Gennarini, presidente onorario del Consorzio, nel quale è presente con la società Nicola Girone SRL. Decano degli agenti marittimi e memoria storica delle vicende del porto, Gennarini ha commentato positivamente il fatto che per la prima volta nella storia del porto di Taranto gli operatori marittimi sono tutti insieme e questa la strada giusta per un futuro roseo. All'incontro con i giornalisti erano presenti anche altri agenti raccomandatari marittimi come Walter Musillo, Gerardo Pentassuglia, Adolfo Melucci. Durante la conferenza ha preso la parola anche il vicepresidente Arcangelo Santamato all'interno del Consorzio con la Barion SRL, che ha acquistato il Palazzo Barion in città vecchia dove ora sorge la Baia delle Sirene. Puntiamo ad avere un ruolo importante per la cultura di questa città. Il 10% di tutte le nostre iniziative sono state devolute a questo, grazie anche alla collaborazione con l'Università. Così come è molto importante la collaborazione con la Capitaneria di Porto e la Marina Militare. Infine una richiesta alla politica locale, soprattutto a quella che verrà con il rinnovo del Consiglio Comunale, la creazione di un apposito assessorato per le politiche del mare.